Benvenuti in Art School. Questo è un esercizio musicale dal titolo Allegro musicale. Allegro musicale vuol dire veloce. In altre parole la musica, la melodia, la canzone devono essere eseguite e suonate con un ritmo veloce. Tutto deve accadere rapidamente. In questo esercizio musicale sarà invitato a riconoscere, a esercitarti e a sperimentare l'Allegro in canzoni famose, in fraseggi propri o di altri, e qualche storia musicale. Sarà l'occasione per essere introdotto nel concetto di Allegro in musica, per comprenderlo e sentirlo pienamente. L'esercizio mira a promuovere la capacità di ascolto, di concentrazione, di osservazione e di reagire, oltre che a prendere l'iniziativa, a pensare, a riflettere. Esso aiuta anche a migliorare l'espressione di sé, la comunicazione, la fantasia, la creatività e la gioia dell'apprendimento. Per ulteriori informazioni, consulta il manuale cartaceo e… ora tocca a te! Buon esercizio e se vuoi vedere altri video vai sul sito web artschool.eu